Eccoci in compagnia di Elena Laferla e di Romolo Maddaleni, presidente dell'APF, organizzatore della mostra di questa sera, Augusta Comere Comè. Ascoltiamo un attimino Elena su quello che intanto abbiamo lasciato prima, il prossimo appuntamento del 31 luglio al canale di Brucoli. Di cosa si tratterà? Il 31 di luglio sarà la chiusura dell'anno sociale per il Circolo Unione e quindi ci sarà una festa. Festeggiamo con della buona musica, musica jazz, con la Hot Jazz Orchestra nostrana, gustana e quindi sarà un'occasione per augurarci buone vacanze e buone ferie a tutti. Non per tutti perché qualcuno deve rimanere ancora a lavorare perché abbiamo subito dopo l'1, 2 e il 3 Augusta l'App Connection che è un laboratorio di scambio, un tavolo di scambio di idee dove ci sarà una parte dedicata a una mostra, a una rassegna di progetti redatti da studi agustani su beni monumentali, storici e ambientali. Faccio presente che ci troviamo qui in un contesto perfetto perché la mostra in atto e che si apre stasera è proprio nella stessa lunghezza d'onda stessa lunghezza d'onda rispetto a quanto ho detto poco fa e cioè la valorizzazione di questi beni. Qui vediamo l'APF e Romolo Maddaleni hanno fatto un accostamento che ricorda la pubblicazione di una ventina d'anni fa della Banca Popolare dove appunto si facevano vedere le foto antiche accanto all'Augusta moderna, Augusta come oggi e quindi in tante foto ho visto ci sono appunto foto del castello di Brucoli piuttosto che del convento di San Domenico che sono dei beni storici augustani che purtroppo ancora oggi vediamo soltanto in foto. Quindi non a caso l'Augusta Lab Connect perché oggi è Augusta come era, com'è e quindi come sarà. Eh sì, si spera di riuscire a imbastire anche un po' un discorso che vada a unire, noi ci facciamo promotori di, non è nient'altro che una connessione fra amministrazione pubblica e privati e fra mondo dell'economia e mondo dell'architettura. Su queste basi poi ci saranno dei dibattiti sicuramente e Augusta Lab Connection ritorna tra 4 o 6 mesi per ridarsi un altro tema diverso appunto da quello di oggi perché di temi insomma da discutere purtroppo ne abbiamo anche troppi. Andiamo a Romolo Maddaleni. Romolo, presidente abbiamo detto dell'APF, questo splendido gruppo che quasi quasi con un po' di malinconia ha creato questa mostra, no? Com'era e com'è forse perché era più bella prima forse? Ma no, bisogna guardarlo quadro per quadro, fotografia per fotografia per capire effettivamente. Ci sono degli scorci che sono cambiati, altri che sono migliorati, altri che si sono perse completamente. Però volevo dire a proposito di questa mostra, noi abbiamo voluto partecipare all'estate augustana perché questa iniziativa in collaborazione col Circo L'Unione che splendidamente ci ospita ormai da parecchie edizioni di mostre fotografie fa parte dell'estate augustana. Quindi noi abbiamo allestito, siamo stati avvisati praticamente con molto ritardo e abbiamo cercato di mettere su delle fotografie, sono 25 fotografie di un progetto, più ampio progetto che abbiamo iniziato ormai da qualche anno e che vorremmo portare avanti, sono parecchie centinaia di fotografie, tutti gli angoli di Augusta ripresi rispetto alle altre, diciamo, a com'era una volta e quindi fa parte di questo progetto più ampio. Abbiamo voluto fare queste fotografie proprio in un'unica stampa mettendo proprio in piccolo il com'era rispetto al com'era. Abbiamo trovato anche delle situazioni addirittura forse anche paradossali che non abbiamo voluto riprendere perché in alcune fotografie antiche se tu rispettando lo stesso angolo di ripresa vai a fare la fotografia non ci riesci a fare o perché ci sono degli alberi, o perché ci sono dei muri, o perché ci sono delle cose eccetera. Quindi delle immagini che non esistono più che sono state, diciamo, riprese in queste 25 fotografie. Voglio dire anche che queste fotografie sono la maggior parte libere perché sono da oltre 20 anni, sono state prese dal web. Cioè le fotografie di com'era chiaramente non sono nostre ma sono riprese dal web. Quelle attuali invece sono state fatte recentemente per questa iniziativa. Quindi ringraziamo l'APF, aspettiamo tutti voi al Circolo d'Unione per venire a vedere questa splendida mostra fino alla domenica 27, se non moderato. 27 ore? Fino alle 21. Fino alle 21. Gli orari sono nella locandina fissa. Fino alle 21 si può visitare. Sono gli orari di giorno e di pomeriggio. No, il mattutino è dalle 10 alle 13. Alle 13 e poi dalle 17 alle 20 e 30. Non lo diamo per ovvio e neanche per scontato. Il Circolo d'Unione si trova in Piazza Duomo ad Augusta. Sì, in Piazza Duomo. Sì.